Buonasera a tutti, sono Giorgio Patrizzi di Binaria Facile Masterclass Allora mi collego solo per farvi vedere la mia previsione di risera che è stata pubblicata su YouTube con un video e questa mattina riportata anche nel canale come, diciamo, possibile investimento Allora, vedete, questo è il grafico di risera, 11 giugno alle 11 e mezzo dove il prezzo sale, 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 sale a un certo punto arriva qui, si ferma, scende e incomincia a rimbalzare su questo livello tracciato da me e cioè rimbalza qui, 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 qui poi a un certo punto rompe Allora, secondo la mia tecnica, quando il prezzo rompe e poi tende a scendere su un livello dove ci sono tutti questi rimbalzi qui, tende poi a rimbalzare e a ripartire come indicato qui con le frecce Ora, il nostro investimento è appunto nel momento in cui il prezzo arriva qui su questa linea orizzontale, questo livello nel momento in cui testa questo livello e, diciamo, e si ferma qui allora noi, in questo preciso momento, entriamo al mercato con un investimento in call cioè un investimento che prevede che il prezzo salga almeno per mezz'ora e allora andiamo a vedere a questo punto che cosa è successo poi oggi vedete sempre la coppia Euro-USD oggi è 12 la mia previsione, guardate il prezzo rimbalzava sempre su questi punti qui come avevo indicato poi è partito, ha rotto ha incominciato a girovagliare qui il prezzo si era fermato qui erano circa le 11.20 poi questa mattina è proseguito sino ad oggi a un certo punto il prezzo è arrivato è arrivato qui guardate, ha toccato questo livello qui e questa è una candela di mezz'ora quindi questa candela rossa di mezz'ora è arrivata qui è scesa sin giù poi alla scadenza dei 30 minuti si è fermata qui e poi il prezzo è ripartito su candela blu per un call quindi il prezzo è sceso e poi è ripartito ecco questa era la previsione confermata oggi questo soltanto per farvi capire che nel trading occorre provare quello che si dice e fare vedere che le proprie previsioni poi hanno una certa logica quindi ho fatto questo video unicamente per farvi capire che nel trading quando si prevede qualcosa poi bisogna anche dimostrare che le cose accadano io vi saluto vi ricordo che sono aperte le iscrizioni nel mio videocorso opzioni binarie 365 il cui costo di euro 2,97 sono 10 video in alta definizione con il quale vi spiego tutte le mie tecniche e strategie che utilizzo ogni giorno per guadagnare con il trading online questa è una di quelle che si chiama tecnica dei muri di trading e quindi ci sono rimasti soltanto due posti dei 5 disponibili ogni mese perché io seguo soltanto 5 persone al mese di più non riesco a seguirne in quanto una volta che acquistate il pacchetto del videocorso io non vi do soltanto un videocorso e vi lascio da soli io vi inserisco in un gruppo c'è un gruppo corsisti dove siete con me ogni giorno insieme ad altre circa 50 persone che io seguo giornalmente H24 ed è lì parte il vostro percorso nel quale voi imparerete ad investire online naturalmente affiancati da me ogni giorno io vi saluto e se volete avere un contatto con me mi trovate su telegram come con questo indirizzo chiocciola io sono un trader oppure potete scrivermi al mio indirizzo mail gppatrizzi chiocciola gmail.com oppure potete diciamo scrivere su youtube rispondendo diciamo commentando questo video chiedendo appunto di essere contattati io vi saluto e ci vediamo alla prossima grazie a tutti